Voglio anche ricordare l'incontro che il Presidente Vucic ha avuto con il Vice Presidente del Consiglio Salvini poche settimane fa a Roma. Dal punto di vista culturale, numerosi eventi hanno segnato questa prima metà del 2019. Ricordo in particolare la mossa dedicata al barocco romano presso il Museo Nazionale di Belgrado, il Festival del Cinema Italiano e la Cineteca Jugoslava e le molte altre iniziative dedicate alla musica, al design, al teatro, alla letteratura e alla lingua italiana. Iniziative realizzate tutte col sostegno e la collaborazione di numerosi enti e istituzioni serbe che voglio ringraziare in questa occasione. Il convegno odierno ci permette di dare profondità e prospettiva al duplice anniversario che festeggiamo quest'anno. La ricerca storica offre strumenti di straordinario valore per capire chi siamo oggi e per renderci più consapevoli della responsabilità e delle scelte che ci stanno davanti. L'intento ultimo è quello di considerare le date fondanti del rapporto di amicizia tra i nostri due Paesi come occasione di ricerca e approfondimento di un rapporto che affonda le radici nella comune storia europea. E voglio sottolinearlo, comune storia europea. Diceva il professor Kostic che non siamo sicuri se il nostro futuro politico sarà comune. Però credo che almeno da parte nostra, da parte d'Italia, abbiamo il dovere di sostenere un'ambizione che riteniamo legittima della Serbia di entrare a far parte dell'Unione Europea.